Lo stress entra in scivolata anche sugli influencer. E' il caso del brasiliano Iran Ferreira, famoso sul web come Luva de Pedreiro, con 40 milioni di followers, diventato una celebrità ricoperto d'oro dagli sponsor per i suoi curiosi video di calcio e i suoi immancabili guanti neri. A 20 anni molla tutto, troppa popolarità e troppi haters. Voglio tornare a vivere una vita normale, ha detto.